ci mettiamo in posizione semplice con le gambe incrociate appoggiamo le mani sulle ginocchia e piano piano cominciamo a muoverci inspirando portiamo in avanti il petto e desperando andiamo indietro lentamente possiamo immaginare il nostro cuore che sta disegnando i cerchi ampi in orizzontale respiro lento e profondo ogni volta inspirando ci portiamo in avanti bene e desperando completamente andiamo indietro con la prossima inspirazione cambiamo la direzione stesso movimento rilassiamo le spalle il collo la testa ogni ispirazione arriva fino al tuo bambino e con ogni ispirazione lasci andare le tensioni preoccupazioni e respira ora inspiriamoci fermiamo e desperando rilassiamo la posizione